Nuovo appuntamento con Hashtag Cus Camerino News per parlare della sezione palacanestro della polisportiva Camerte con il responsabile Angelo Abbracciavento. Andiamo innanzitutto a scoprire quali sono le fasce d'età e le squadre coinvolte nell'attività della sezione. Ciao a tutti, per quanto riguarda le giovanili abbiamo una fascia d'età che va dai 6 anni fino ai 12 anni. Questi ragazzi fanno i campionati esordienti, gli aquilotti, gli scogliattoli e i pulcini. Gli esordienti li facciamo in collaborazione con un'altra società. Per quanto riguarda i gruppi più grandi abbiamo una collaborazione con Materica. I nostri ragazzi andiamo al 18, fanno lì il campionato regionale con la società di Materica. A livello di prime squadre quali sono le competizioni a cui partecipa il Cus Camerino? Le competizioni che facciamo sono la promozione e il CSI. Per quanto riguarda la promozione siamo in lotta per i playoff come ogni anno. Abbiamo fatto anche due nuovi acquisti proprio recentemente. Uno è Lorenzo Marzante che viene da Montegranaro e un altro è un ragazzo che fa l'università fuori ma è di Camerino ma è tornato qui a giocare ed è Paolo Antonini. Un ragazzo che ha avuto per tanti anni delle giovanili, per quasi 8-9 anni. Ed è bello comunque sia vedere a Camerino tanta gente e tanti ragazzini che sono cresciuti qui nel nostro rivaglio e che adesso fanno parte della nostra prima squadra. Quindi una stagione molto ricca di impegni. Tra l'altro adesso stanno per cominciare anche i campionati nazionali universitari. Sì, ormai siamo lì, stanno per iniziare. Abbiamo la prima partita fuori casa a marzo e poi giocheremo in casa. Non voglio sbagliarmi perché come sapete qui a Camerino abbiamo 8 sezioni e quindi faremo per diverse sezioni CNU ma dovremo giocare contro Ferrara la prima e poi ritorno qui in casa sempre a marzo. Ci stiamo preparando, addirittura ci alleniamo la domenica con questi ragazzi che vengono anche da fuori ma che studiano qui a Camerino e il nostro obiettivo è superare il turno e far crescere sempre di più il movimento cestistico. Come hai detto, ragazzi di fuori che studiano a Camerino, l'importanza degli studenti Unicam nell'attività del Cus Camerino e anche nella sezione pallacanestro è sempre tanta. Sì, noi cerchiamo di soddisfare e accontentare qualsiasi studente che viene qua e ringraziamo infatti il Rettore, il nostro Presidente e il Segretario Generale perché ci mettiamo sempre a disposizione dei ragazzi affinché qualsiasi cosa o qualsiasi loro richiesta possa essere accontentata. E in conclusione, per chi vuole praticare la pallacanestro a Cus Camerino, quali sono gli orari? Allora, per tutti quelli che vogliono giocare in prima squadra, gli allenamenti sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 20 alle 21.30. Per qualsiasi cosa potete chiamarmi, il mio numero è 349-19-26393. Sempre a vostra disposizione. E quindi appuntamento al Palosini. Vi aspetto. Ciao a tutti.